Buonasera, benvenuti, benvenute al nuovo appuntamento Giocare da Grandi, il format che dal 2020 ci accompagna nell'analisi e nell'approfondimento del gioco pubblico. Un percorso che parte sempre da basi solide, abbiamo dati, abbiamo numeri, abbiamo fatti, tutto raccolto in una ricerca che non si limita a fotografare lo stato dell'arte di una realtà complessa, ma ci invita a riflettere come il gioco pubblico in realtà si intrecci con aspetti economici, sociali e culturali di grande rilievo. Anche quest'anno ci supporta in questo percorso SVG che attraverso l'osservatorio ci offrirà molteplici, e lo vedrete davvero molteplici, spunti di riflessione per il dibattito, un dibattito che come di consueto vedrà protagonisti della rappresentanza istituzionale ed esperti del settore. Oggi affronteremo tantissimi temi, la percezione del gioco pubblico da parte appunto dell'opinione pubblica, la regolamentazione, il contrasto al gioco illegale, la propensione delle persone al gioco. Non voglio anticiparvi molto altro della ricerca e chiamo qui con me Riccardo Grassi, responsabile di ricerca SVG che ci presenterà questo studio. Grazie Riccardo. Grazie, mi armo di microfono e puntatore. Buonasera a tutti, ben ritrovati, ormai sta diventando un appuntamento fisso dal 2020. Una felice consuetudine. Quest'anno, in questa occasione, abbiamo voluto allargare un po' il nostro spettro di riflessione, quindi non solo sui dati che vedremo, abbiamo aggiornato sempre sul nostro panel di giocatori che ormai stiamo seguendo da diverso tempo, ma con un approfondimento specifico su alcuni temi che riguardano il rischio e le connessioni che il rischio ha con il gioco. Se dalla regia ci mettono le slide, partiamo subito. Eccoci. Allora, come sempre, abbiamo questo nostro campione, sono circa 400 giocatori, nell'ultima indagine erano 335 giocatori che abbiamo intervistato ormai per 5 wave, quindi è più di un anno e mezzo, che li seguiamo e li monitoriamo nei comportamenti. Sono tutti giocatori assidui di giochi con vincita in denaro, con una ripartizione che è leggermente prevalente sulla componente maschile e over 54, ma riprende un po' quelle che sono le informazioni che sappiamo. Quello è la percentuale di soggetti che dichiarano di aver giocato a uno dei giochi indicati nel mese precedente all'intervista. Mi sposto così potete vedere meglio i dati che, vedete, si caratterizzano per una sostanziale stabilità, cioè le variazioni sono quasi tutte dentro l'errore stocastico di questo tipo di rilevazioni. L'unica differenza significativa è la Lotteria Italia, ma perché abbiamo fatto la rilevazione a gennaio e questo sarebbe stato stupefacente se non fosse così. Vedete che su tutti gli altri dati abbiamo percentuali davvero molto uniformi, le più uniformi sono sulle scommesse, Gratta e Vinci, Super Enalotto, tutto sommato anche Slot Machine, vedete che sono molto vicine. Così come sono uniformi i dati riferiti ai contesti di gioco, ai contesti fisici, qua parliamo di Casinò, sale VLT, i bar con Slot Machine avevano visto una crescita per tutto il 23-24, nell'ultima rilevazione c'è un dato che scende. Anche sul gioco online non abbiamo sorprese, si mantiene una stabilità che è anche in parte frutto del fatto che è un panel continuativo, quindi intervistiamo costantemente le stesse persone. Al netto di questo però cominciamo a vedere un dato un po' più di sintesi. Il primo elemento davvero interessante è che in questo campione non esistono quasi giocatori esclusivi, cioè solo l'8% dei giocatori che abbiamo intervistato si dedica esclusivamente a un gioco. Il 49% ha giocato almeno una volta almeno sei tipologie di gioco diverse. Questo per dirci che c'è un tema sicuramente di offerta, lo sappiamo, ma che c'è un tema di domanda forte, cioè c'è una richiesta di gioco che è ampia e variegata e che trova soddisfazione in una molteplicità di prodotti. Sempre qua vedete la percentuale di chi ha giocato ai vari giochi, il blu più scuro è chi ha giocato almeno una volta al mese in tutti i mesi di rilevazione e poi scende l'intensità. Anche qua che cosa ci dicono i dati? Ci dicono due cose importanti, che gratta e vince e supera in all'otto sono i giochi assidui, siamo intorno al 60% dei giocatori che in tutte le rilevazioni hanno giocato. Le lotterie, ma qua c'è anche un tema di lotterie Italia che incide, sono quelle che hanno la più alta percentuale di variabilità, cioè di giocatori meno assidui ma comunque ben presenti. le scommesse sono invece l'area in cui il gioco occasionale è più raro. Dato comunque che torno a sottolineare più importante è sicuramente questo. Vedete che abbiamo praticamente il 70% dei giocatori che giocano almeno tre tipologie di gioco. Bilancio emotivo in un anno e mezzo di giochi. Com'è il bilancio emotivo? Beh, anche qua i dati sono molto chiari. Al primo posto c'è il divertimento. Il 48% dei nostri intervistati dichiara di essersi sempre divertito e se aggiungiamo quel 22% che si è divertito nella maggior parte dei casi vedete che abbiamo oltre il 70% dei giocatori che definiscono come divertimento la loro esperienza di gioco. Ci conferma quello che abbiamo visto anche in precedenza ma ce lo conferma scorporandolo ad esempio da altri due concetti. Il concetto di fortuna. Noi abbiamo il 70% dei giocatori che si diverte e l'80% che è sfortunato. Ok? Quindi ti diverti pur essendo sfortunato. Sì, perché il divertimento è proprio e questo l'avevamo visto in una delle primissime indagini è proprio strettamente connesso alla natura del gioco al fatto di sfidare la fortuna. Se vincessi sempre non mi divertirei. Ok? Altra cosa interessante è che c'è la percezione di un buon controllo sia del tempo di gioco che della spesa di gioco vedete che solo il 10% dice che ha sempre dedicato troppo tempo il 20% che ha sempre speso troppo denaro e poi vedremo questi dati hanno una rilevanza anche successivamente. Spesa media, vincita media, saldo medio vedete che sono ovviamente variabili perché sono così variabili? perché con un campione così piccolo basta un soggetto che in un'occasione ha vinto 2.000 euro che le medie un po' vacillano. Il dato più interessante è che a ottobre abbiamo registrato per la prima volta un saldo positivo. Cioè il percepito di spese di vincita era addirittura positivo per un euro. Ok? Aggregando i dati però che cosa si evidenzia? Si evidenzia che l'80% dei giocatori ha un rapporto spesa-vincita negativo e solo il 20% ce l'ha positivo. Tra l'altro con una gaussiana sulle giocate vedete è quella blu e invece sostanzialmente una retta sulle vincite perché sono tante le vincite piccole e poche ovviamente le vincite grandi. Anche qua facendo una sintesi di tutte le giocate del periodo che cosa abbiamo? Abbiamo una spesa media mensile di 120 euro a cui corrisponde una vincita media mensile di 80 euro e quindi una spesa reale di 40 euro al mese che è in linea con le spese di divertimento su tutta un'altra serie di elementi che abbiamo visto altre volte dalle piattaforme in streaming ad altri divertimenti del tempo libero. Anche in questo caso ovviamente ampliando il set dei dati vedete che si avvicina la percezione della vincita ogni 100 euro spesi tra chi spende più denaro e chi ne spende meno ed è sempre una percezione negativa chi gioca fino a 25 euro al mese ritiene che ogni 100 euro che spende ne ha 90 di vincita ma quando si sale nella spesa quindi dai 50 euro oltre i 25 euro in su il rapporto spesa-vincita si assesta su 60 euro circa ogni 100 investiti che è alla fine esattamente il saldo che abbiamo visto. Questo è un dato nuovo che non abbiamo mai presentato e che però troviamo molto interessante abbiamo verificato la spesa rispetto al sentimento emotivo ovvero tra chi si è divertito noi abbiamo messo a confronto le categorie opposte chi si è sempre divertito da chi non si è mai divertito chi non è mai stato fortunato da chi è sempre stato fortunato eccetera che cosa viene fuori? Beh, viene fuori che chi si è sempre divertito ha speso tre volte in più di chi non si è mai divertito a conferma che il tema del divertimento non è legato né alla spesa né alla vincita ok perché vedete che il saldo è meno 32 euro per chi non si è mai divertito meno 55 per chi si è sempre divertito il tema della fortuna differenzia molto chi dice di essere sempre stato fortunato è in assoluto chi ha giocato di più 315 euro quindi una cifra molto importante al contrario di chi dice che non è mai stato fortunato che ha speso 90 euro ovviamente chi dice che è sempre stato fortunato e che ha speso molto di più è anche quello che ha perso di più ok anche qua ci aiuta a capire come il meccanismo non sia un meccanismo perfettamente razionale ma sia proprio un meccanismo di ingaggio emotivo dati più vicini invece tra chi dice che ha speso troppo tempo o chi ha speso troppo denaro o non ha mai speso troppo denaro guardate questo dato su chi dice non ho mai speso troppo denaro il saldo negativo è di 4 euro quindi è vero non è solo un percepito è vero abbiamo voluto in questa rilevazione e poi questa è una linea che vorremmo portare avanti anche nei prossimi mesi applicare un indicatore un indicatore internazionale il Problem Gambling Severity Index è un indicatore che è stato usato anche dall'Istituto Superiore di Sanità e abbiamo voluto provare a misurarlo sui nostri giocatori confrontando anche come vedete alle mie spalle col dato del rapporto Istisan del 2018 ovviamente c'è una considerazione importante da fare il nostro è un panel di giocatori continuativi cioè sono persone che è un anno e mezzo che giocano tutti i mesi quindi hanno un'esposizione al gioco molto superiore a quello di un campione random e non è un caso che la percentuale di quelli che possono essere definiti giocatori a rischio il concetto è un po' tecnico non corrisponde esattamente a un rischio grave ma a una serie di condizioni è nettamente più alto vedete tra i nostri panelisti 44 contro 20 ma il dato davvero importante è che c'è una sostanziale coincidenza dei giocatori davvero problematici cioè tanto l'indagine dell'Istituto Superiore Dovere di Sanità quanto la nostra sui giocatori assidui mostra che l'incidenza del giocatore problematico è inferiore al 10% abbiamo voluto andare avanti in questo dove sono i giocatori problematici più tra le donne che tra gli uomini l'incidenza di donne è quasi doppia è quasi doppia molto più alta tra i giovani 23% contro il 2% degli over 55 piccoli centri e titolo di studio più basso ma qua con differenze minore abbiamo provato provato a vedere altri due altri dati la spesa e il numero di giochi giocati rispetto all'indice e anche qua che cosa vedete vedete che nei fatti la spesa mensile percepita non incide più di tanto incide solo quando si va oltre i 100 euro vedete che la distribuzione qua rimane sostanzialmente identica quando si va a una spesa oltre i 100 euro allora i giocatori problematici diventano il 13% ma guardate l'altro grafico cioè quando si va a contare il numero di giochi è qua che la differenza diventa molto più ampia cioè quando ci si ferma uno o due giochi che vuol dire fondamentalmente persone che giocano a Grattevinci e Superenalotto il livello di rischio è sostanzialmente azzerato quanto più aumentano i giochi tanto più aumenta il rischio ma in realtà quello che è veramente il fattore chiave è il tempo dedicato qua abbiamo fatto il solito schema per sentiment emotivo e guardate qua chi dichiara di avere sempre dedicato troppo tempo ai giochi nel 29% ha un indice di rischio elevato ok che cosa ci aiutano a dire questi dati ci aiutano a a sottolineare come rimane fondamentale tutto il lavoro sulla consapevolezza e come questo tema rientra è soprattutto nella capacità di dare ai giocatori un limite anche legato proprio al tempo di gioco il tempo vale più del denaro per un motivo molto semplice perché il denaro è molto legato alle condizioni individuali giocare 100 euro per una persona può essere niente peraltro un grosso problema il tempo è un indicatore molto più efficace questo però apre delle questioni importanti sulla regolamentazione anche qua questo è il dato sulla percezione che il problema della dipendenza del gioco si sarà ridotto di molto bassissimo non si crede molto a questo si crede che le persone aumenteranno giocheranno di più ma il problema si sarà ridotto si ridurrà poco questa è la percezione di chi è di chi ha la responsabilità del gioco patologico e guardate anche qua il dato molto chiaro le persone che giocano e lo Stato sono sullo stesso livello i concessionari si sta riducendo di molto nel tempo i tabaccai sono sempre stati al livello più basso recuperiamo per chiudere una buonasera buonasera benvenuto recuperiamo per chiudere alcuni risultati di un'indagine che avevamo fatto due anni fa proprio sul tema della regolamentazione degli enti locali perché perché se il tema del tempo di gioco è un tema così chiave rispetto all'esposizione al rischio è evidente che ci sono due questioni la prima il gioco online è quello che fa perdere di più la cognizione del tempo ed è quello meno controllato e quindi rappresenta un elemento di rischio molto importante il secondo è che lo spazio fisico diventa spazio di contenimento perché è quello in cui c'è più possibilità di un controllo c'è più possibilità di un intervento c'è più possibilità di di una azione anche da parte dei gestori a me è sempre colpito nell'intervista che abbiamo fatto quanti gestori ci dicevano noi non vogliamo avere i ludopatici nelle nostre centri gioco non vanno bene perché sono un danno economico quindi per noi è importante lavorare su questi aspetti quindi sul tema anche della sensibilizzazione degli operatori eccetera un ultimo passaggio perché mi sgrida che sono in ritardo avevamo fatto queste interviste ai rappresentanti degli enti locali chiedendo anche a loro quali potevano essere gli elementi più o più importanti e vedete che alla fine ci sono una serie di questioni che tornano mantenere l'obbligo del tracciamento dei giocatori il tema della pubblicità che però è un tema sul quale secondo me bisogna distinguere molto tra pubblicità e informazione perché con la questione che non si fa più pubblicità che poi mi sembra sia stata enormemente bypassata dalla realtà dei fatti si è saltato anche tutto il tema dell'informazione il tema degli strumenti di controllo digitale per aiutare la gestione della spesa il tema della gestione dei punti di gioco e dell'effetto che hanno gli strumenti di gioco self-service basati ad esempio sui cellulari e poi c'era un ultimo tema che a me sta particolarmente a cuore ma sono parte in causa che è la questione del costruire davvero un sistema istituzionalizzato di ricerca scientifica su questo argomento ho corso un attimo ma sono qua per qualsiasi tema e approfondimento grazie grazie Riccardo io avevo fatto decenni nascosti per non far vedere che ti stavo dicendo di andare veloce però mi hai diciamo hai confessato davanti a tutti però c'è un motivo ovvero ci ha raggiunto l'onorevole Andrea De Bertoldi membro della commissione finanze della camera dei deputati che conosce molto bene il tema ed è un ospite più che gradito quindi ci tenevo a lasciarle la parola prego innanzitutto un brevissimo saluto il mio perché non sono certamente io che posso competere sulle analisi con colui ma puoi farlo sui commenti ecco io posso provare a farlo sui commenti ma la prima cosa che mi sovviene e chiedo Venia se ho potuto ho perso una buona parte della relazione ma eravamo impegnati anzi lo siamo ancora alla camera in votazioni e oggi proseguiremo credo fino a tarda sera e quello che mi viene in mente è questo ed è una domanda che io mi pongo premettendo da rappresentante della maggioranza quindi chiarisco questo aspetto la domanda che mi pongo è ma perché quando tutti capiamo sappiamo al di là delle analisi svolte che il maggior pericolo sta nel gioco online perché si è partiti dal gioco online nelle riforme e sul gioco fisico ancora tutto fermo la risposta c'è qualcuno potrebbe dirmi mamma mia ma non lo sai perché sul gioco fisico c'è tutto il problema delle regioni degli accordi però io sono abituato a guardare anche oltre e sono convinto che se c'era la volontà di risolvere prima questo problema si poteva risolverlo io è da tempo ad esempio che dico se vogliamo risolvere una buona parte dei problemi degli enti locali li risolviamo facendoli compartecipare al gettito delle imposte che gravano sul gioco il preo in primis oggi ovviamente gli enti locali sono esclusi dalla compartecipazione e hanno per ragioni più o meno condivisibili per motivazioni spesso demagogiche populiste ma comunque sia hanno questo atteggiamento che porta a delle discrepanze tra territorio e territorio addirittura tra comune e comune cioè tra regioni e regioni cose che non si spiegano e che quindi stanno bloccando di fatto tutto quello che è il sistema del gioco fisico ribadisco se usando la leva fiscale io a volte mi dicono che penso troppo al fisco essendo un commercialista però credo di averne anche qualche piccola giustificazione ma utilizzando la leva fiscale appropriatamente si poteva sicuramente creare anche per gli enti locali che si sa quanto abbiano bisogno di finanza un atteggiamento meno di contrasto e quindi trovare un coinvolgimento che avrebbe permesso di dare prima di tutto una riforma al gioco fisico che è il gioco di base quello più controllabile quello che permette meglio di gestire appunto anche le degenerazioni quindi le ludopatie purtroppo si è fatto l'inverso sinceramente non mi sento di spiegarne le ragioni non lo so qualche volta mi dicono che a pensare male mi dicevano quando ero più giovane persone molto più competenti e brave di me in politica dicevano che a pensare male qualche volta ci si azzecca insomma io non voglio pensare male ma insomma qualche dubbio sul fatto che il gioco online sia stato così affrettato sapendo benissimo che è quello che destra maggior pericolo qualche dubbio insomma io ce l'ho ma me lo tengo per ora per me penso e concludo davvero perché il mio è un indirizzo di saluto penso che dobbiamo però tutti assieme capire che il gioco legale va tutelato a prescindere che sia che ci si faccia si faccia riferimento a grandi player alle PMI italiane che vanno certamente tutelate ma comunque il gioco legale va tutelato perché tutelando il gioco legale prima di tutto si sconfiggono le mafie le illegalità il riciclaggio e contemporaneamente tutelando il gioco legale si riesce a sconfiggere o comunque a limitare perché le malattie non si sconfiggono mai del tutto si riesce a limitare la degenerazione che è la ludopatia questo dovrebbe essere a mio giudizio il percorso che la politica dovrebbe svolgere mettendoci la faccia l'ho detto più volte nei convegni avendo il coraggio di metterci la faccia anche se è chiaro come ho ricordato lo scorso convegno è chiaro che un politico che va in piazza a dire aboliamo il gioco creiamo mille complicanze al gioco probabilmente prende un voto di più il giorno dopo ma io vengo dalla scuola di Alcide De Gasperi io vengo anche dal territorio di Alcide De Gasperi e ricordo che un politico non deve mai guardare al domani ma deve guardare al dopodomani anzi deve guardare al medio-lungo termine e guardando al medio-lungo termine credere in un gioco sano pulito e legale vuol dire credere di fatto nell'interesse dello Stato e della collettività grazie grazie a lei come immaginerete i lavori in aula hanno un po' scombussolato la nostra scaletta dovevano esserci gli altri istituzionali ci raggiungeranno dopo e vedremo insomma come sempre in divenire come organizzarci intanto chiamerei sul palco per il panel dedicato alla tutela della legalità e al gioco pubblico Emanuele Cangianelli presidente di EGP Associazione Sercenti Giochi Pubblici benvenuto Fipe Confcommercio Armando Iaccarino presidente del centro studiastro Luca Turchi dirigente dell'ufficio controllo giochi dell'agenzia delle dogane e monopoli ed Emilio Zamparelli presidente nazionale del sindacato totoricevitori sportivi esperti e play for fun mi accomodo con voi grazie allora io diciamo è difficile fare una domanda specifica quando sono emersi così tanti spunti in realtà ci sarebbe da commentare a lungo e lo stesso Riccardo avrebbe continuato insomma a dettagliare ulteriormente partirei dal presidente Cangianelli cosa ha notato di particolarmente interessante o di inaspettato in questa ricerca ecco mi sentono meglio ma di inaspettato devo dire non molto perché poi avevo riletto giusto negli ultimi giorni le altre wave quindi io almeno personalmente ho un senso di continuità che ho rilevato nei dati è una ricerca molto interessante tra tutte quelle che si leggono perché contrariamente ad altre non dà nessun giudizio valoriale ma dà una lettura peraltro proprio sui destinatari di tutte le disposizioni o le valutazioni che si stanno facendo quindi persone che giocano con continuità ciò che mi ha colpito e che mi continua a colpire c'è un dato ormai stabile tutti sappiamo e la ricerca lo riporta puntualmente che l'8 10% delle persone che giocano quindi il 4 5% se guardiamo la popolazione generale sono il target il vero target forse l'unico target di tutte le misure di cui discutiamo per la prevenzione delle dipendenze tutti gli altri e la popolazione forse non si ha contenza generale no il tema qui penso di poterlo dividere anche con chi nell'agenzia fa il lavoro e interagisce con i decisori politici il tema che spesso non si entra in questo tipo di approfondimento e quindi poi si fanno o si propongono delle soluzioni più più spicce ancora si parla nell'intesa di distanziometri o di limitazioni degli orari sono chiaramente da tempo misure che si sa che non funzionano quelle che funzionano e qui c'è un altro elemento specie nella parte finale specie nelle osservazioni che ho compreso venire anche dai decisori territoriali c'è un richiamo alla tecnologia ecco è ancora minima la componente di supporti tecnologici per l'informazione per la prevenzione nei punti vendita questo è lo spazio che ci offre maggiori opportunità di miglioramento questo mi aspetterei che ci sia di più nei futuri paper atti normativi sulla certificazione dei punti vendita perché consente di interagire con la domanda invece di limitare sulla carta l'offerta e dare anche un supporto a chi gestisce i punti vendita agli esercenti che oggi spesso ha solo la sua buona volontà per combattere queste parti meno accettabili dell'offerta di gioco in denaro benissimo grazie io lascerei la parola proprio a Luca Turchi che è stato insomma chiamato in causa come abbiamo detto dirigente dell'ufficio controllo giochi agenzia delle dogane e monopoli prima di fare un commento alla ricerca io avrei una domanda per lei che conosce il tema insomma proprio dall'interno il gioco legale per sua natura in contrapposizione con il gioco illegale come dicevamo probabilmente non c'è ancora sufficiente percezione di questa cosa ma di che numeri parliamo quando parliamo di gioco illegale quando parliamo di gioco illegale parliamo di numeri che non sono spesso certificabili abbiamo tanti studi in materia e attualmente possiamo dire e concordare con la maggior parte dei studi che indicano in circa 20 miliardi di giocato quello che è il mondo dell'illegale mondo dell'illegale che si esprime sia sul gioco a distanza e qua ricordo l'importante attività che facciamo come amministrazione che è quella dell'inibizione dei siti quest'anno abbiamo inibiti 721 l'anno scorso 492 un trend un po' in crescita negli ultimi anni e rileva la costanza dell'impegno che ci mettiamo nel contrasto a questa forma di gioco di illegalità e poi c'è una raccolta di gioco illegale su rete fisica che si sviluppa anche attraverso la fruizione di giochi che magari sulla rete fisica non sono consentiti un esempio il poker online non è consentito e talora i nostri colleghi trovano attività di gioco relative a questa forma di divertimento comunque che viene esclusa dall'alveo della legalità una cosa importante da dire è che la maggior parte dell'attività di controllo è rivolta non tanto e non solo a recuperare introiti irariali ma è soprattutto volta a garantire i giocatori perché nella maggior parte delle casistiche che quotidianamente affrontiamo ho fatto vedere poco fa all'amico Armando collega di lunga data nell'amministrazione alcune AVP sequestrate AVP1 cioè vecchissime reperti storici sequestrati ieri in Sardegna cioè la nostra attività è volta a garantire che il payout che è previsto dalle norme venga effettivamente erogato ai giocatori e credetemi su tutto il territorio al centro in periferia questo è il nostro obiettivo principale avere la dare la massima garanzia ai giocatori grazie Presidente Iaccarino visto che condividete diciamo un bel pezzo di strada insieme mi sa abbiamo parlato di gioco illegale e di gioco legale ma c'è qualche possibilità di commissione fra le due nel senso c'è il rischio che senza gioco legale la gente finisca a giocare legalmente o viceversa ma io credo che questa cosa sia preso che scontata è scontata forse però ripeto secondo me non si ha abbastanza cognizione di questa cosa i dati i numeri in determinate situazioni che si sono verificate negli ultimi anni hanno dimostrato che laddove si riduceva la presenza del gioco legale in una misura che non è facile quantificare ma comunque c'era un rivolgersi verso il gioco illegale partiamo da una considerazione che è principale cioè il mercato del gioco è un mercato progressivamente crescente in valore assoluto e caratterizzato da un elevatissimo indice di sostituzione l'indice di sostituzione a seconda delle circostanze che si vivono si rivolge o verso altre tipologie di gioco legale o naturalmente verso aree di gioco illegale un esempio per dire come alcune considerazioni che sono state fatte nel legiferare o regolamentare la materia in sede territoriale non abbia tenuto conto di una realtà così evidente come quella che ho appena accennato è il tentativo di isolare i luoghi nei quali l'attività di gioco possa essere sviluppata o di ridurli fortemente in questo modo non si è fatto altro che lasciare paraterie libere al gioco illegale e questo chiaramente è esattamente l'obiettivo opposto rispetto a quello che si voleva raggiungere si fa comunque una grande confusione tra due temi e mi piace sottolineare i numeri che diceva prima Emanuele Cangianelli il contrasto alle patologie e il contrasto all'illegalità allora sono come dire due strade parallele che chiunque governi o diriga deve perseguire va però tenuto presente che senza sminuire assolutamente il tema patologie perché anche un solo malato è un problema per la collettività però lì parliamo dicevamo poco fa se va bene se va bene in una valutazione larga dell'8% della popolazione da questa parte abbiamo sentito parlare di 20 miliardi di possibile come dire gioco illegale e sappiamo bene che quando si fa una valutazione sugli aspetti e sui fenomeni di illegalità normalmente siamo di fronte a sottostime perché è difficile che possa farsi un ragionamento realmente realistico scusate il gioco di parole su qualcosa che di per sé per sua natura è coperto chiudo rapidamente dicendo una cosa non entro nel dettaglio noi abbiamo lavorato io e Luca Turchi lui adesso sta lavorando io ho lavorato in passato proprio nel settore del contrasto all'illegalità quindi resto un attimo su questo panel quello della tutela dell'illegalità non mi non entro nel merito non sono sufficientemente competente per poter dire quali sono gli arsenali da mettere in campo per contrastare l'illegalità però mi permetto di richiamare quattro linee direttive sulle quali costruire una strategia di contrasto all'illegalità e queste quattro linee direttive a mio parere sono la trasparenza ovviamente la tecnologia ovviamente direi l'interazione poi spiegherò meglio che cosa significa e le regole regole e tecnologia sono in qualche modo due elementi e due temi scontati la tecnologia anche attraverso strumenti di di intelligenza artificiale soprattutto rispetto ad alcune tipologie di gioco come quello online è evidente che deve fare passi da gigante per portare avanti il contrasto all'illegalità le regole intendo dire quando le regole sono precise se il perimetro è ben delineato allora il discorso diventa effettivamente più perseguibile gli altri due punti le altre due linee le altre due linee guida che ho citato sono invece state sino adesso notevolmente messe da parte accantonate poco utilizzate quando parlo di trasparenza intendo dire riconoscibilità allora è giustissimo il riferimento che faceva prima il nostro padrone di casa quando diceva tra pubblicità e informazione c'è una grande differenza e io non parlo quindi va riconsiderato il tipo di regolamentazione della pubblicità e dell'informazione attualmente esistenti perché o si è trasparenti e riconoscibili nell'offerta di gioco legale che si produce o altrimenti si crea soltanto confusione l'altro aspetto è l'interazione l'ho vissuta personalmente quando ero in agenzia gli operatori del settore attraverso le loro associazioni di categoria vanno coinvolti la creazione di indicatori di rischio che permettono di capire quali sono le strategie da seguire per la lotta all'illegalità avviene insieme a coloro che operano sul territorio perché sono loro che ti sanno dire quali sono i fenomeni di illegalità che si stanno verificando e nel dettaglio e quali sono quindi anche i meccanismi che possono far sì che si crei un contrasto efficace nei confronti di quello cioè va pensato che sia un fronte unico e che l'interazione sia uno degli strumenti principali per contrastare l'illegalità aggiungo anche per contrastare le patologie per esempio protocolli tra operatori di gioco concessionari associazioni di categoria e enti che operano nello specifico settore a livello sanitario sarebbero fondamentali per affrontare anche quel problema quello delle patologie benissimo grazie lascio la parola a questo punto ad Emilio Zamparelli abbiamo parlato di tantissime cose cooperazione quanto è importante la cooperazione tra tutti gli attori che fanno parte di questo mondo di questo contesto fondamentale la cooperazione è fondamentale in generale in questo settore a maggior ragione perché poi le tematiche che coinvolgono il settore sono tematiche spinose ormai da tempo e sono certo sono convinto che solo con la cooperazione di tutti gli attori in campo sia possibile in qualche modo invertire la tendenza cercare in qualche modo di far ragionare soprattutto le persone che in questo momento qua attaccano il gioco con pregiudizio quindi una cooperazione che sicuramente deve partire dall'agenzia e coinvolgere fino ovviamente l'esercente l'esercente che si sente particolarmente coinvolto nel momento in cui parliamo di prevenzione la prevenzione è importante fondamentale io sono convinto che si faccia già tanto si faccia già tanto parlo per la categoria per noi tabaccai noi siamo quella rete vicina al cittadino quella rete sotto casa è il caso di dire dove c'è un campanile c'è una chiesa c'è una torre nei dintorni c'è sicuramente un tabaccaio molto spesso quei clienti sono clienti del posto che il tabaccaio conosce bene e a cuore ovviamente ha attenzione per quel tipo di giocatore per il modo in cui il giocatore si approccia quindi è fondamentale ovviamente un approccio al gioco responsabile e si fa di tutto perché ciò accada nel momento in cui si vede soprattutto nelle piccole attività soprattutto in quelle attività condotte a livello familiare o con pochi dipendenti si vede il giocatore che esagera l'operatore il tabaccaio in generale l'operatore ovviamente interviene c'è una responsabilità di carattere sociale quindi diciamo il contatto diretto con il giocatore è un contatto diretto dove la responsabilità e l'alto grado di responsabilità c'è quindi una cooperazione a valle ancora prima di quella a monte sicuramente la cooperazione deve partire a valle sì è fondamentale la rete di raccolta è fondamentale una rete di raccolta che sia formata che sia formata ad avere a che fare con il giocatore deve conoscere la formazione diventa fondamentale diventa veramente diventa importante poi tutto quello che c'è da fare a livello anche di informazione a livello istituzionale è giusto che si faccia anche questo è un modo per avvirare e per avvirare al cittadino per coinvolgerlo però io sono convinto che l'attività che viene fatta dal singolo dal singolo operatore del settore sia l'attività primaria è quell'attività che poi ti porta ad avere il contatto col giocatore a far cambiare anche l'atteggiamento del giocatore verso il gioco anche se sottolineo il giocatore gioca per divertimento l'abbiamo visto in questa ricerca lo stiamo vedendo di volta in volta il giocatore gioca per divertimento per divertirsi quella minima parte di giocatori che gioca in maniera in maniera sbagliata è il caso di dire perché gioca in maniera sbagliata che non gioca per giocare forse che non gioca per giocare esatto che potremmo dire che è malato via di gioco quel giocatore in realtà ha bisogno di tempo quel tempo che di tempo e di spazio e teniamo conto di una cosa che il tempo e lo spazio il giocatore nelle nostre attività non lo trova lo spazio è poco il tempo altrettanto perché gli orari sono orari ridotti l'abbiamo detto prima l'online è quello che dà tempo e che dà tanto spazio perché chiuso a casa c'è tutto lo spazio che vuoi tutto il comfort per giocare a differenza in un punto vendita dove sei osservato quindi pongo attenzione alla salvaguardia della rete generalista cioè quella rete che sta vicino al cittadino che serve quel cittadino sociale quel giocatore sociale quello che gioca per divertimento quello che gioca poi pochi giochi perché quello che gioca se giochi è il giocatore che gioca online perché se giochi in uno stesso punto vendita non li trovi sicuramente benissimo grazie ringrazio a questo punto i relatori passerei a questo punto al secondo panel siamo ancora in attesa che ci raggiungano dall'aula altri esponenti istituzionali ringrazio tra l'altro l'onorevole De Bertoldi che qui sta ascoltando e sta seguendo che secondo me da parte delle istituzioni è una cosa fondamentale voler sapere quello che dicono gli esperti per poi avere un bacino di competenze e di conoscenza anche di chi opera diciamo tutti i giorni all'interno del settore chiamerei a questo punto qui con me Michele Budelli fondatore CEO di PG Sports & Fandango Club Laura D'Angeli founder studio D'Angeli ed esperta nel settore del gaming Rita Mascolo lecturer di storia dell'economia e dell'impresa dell'università Luis Guido Carli e Nicolò Ruberti esperto nel settore del gaming di Prisma Mag grazie anche a voi per essere qui abbiamo diciamo affrontato il tema da un punto di vista di legalità e di illegalità adesso vorrei intanto tornare un po' sulla ricerca ma anche capire cos'è il gioco per gli adulti cioè gli adulti come giocano perché abbiamo questa idea che i bambini giochino ma in realtà anche gli adulti hanno bisogno di divertimento di intrattenimento quindi dare la parola a Michele Budelli che relazione c'è tra il gioco e l'età adulta ricordo a tutti i relatori che hanno 3-4 minuti al massimo perché poi insomma ci aspetta l'aperitivo dove possiamo continuare a parlare del tema per chi volesse grazie anche meno porto la testimonianza a questo tavolo di un settore che ha nella parola gaming un territorio di continuità con il panel ma che necessariamente parla di un gaming differente che però ci può dare dei buoni insegnamenti mi ha colpito tantissimo l'ultimo intervento quando si faceva riferimento ai giocatori che isolati nella propria stanza di casa possono avere comportamenti patologici pensate ai vostri figli cugini e nipoti che questo comportamento lo possono avere con le console di videogiochi allo stesso modo perdersi in una playstation in collegamento streaming magari con gente dall'altra parte del mondo bene quello che noi facciamo come organizzatori di eventi legati al gaming è proprio quello di esaltare invece il lato sano di socializzazione che il gaming può portare noi portiamo fuori quelli che vengono chiamati i nerd la mia generazione è cresciuta con film che ci si ricorda la storia dei nerd che sono oggi invece è quasi una figura positiva perché oggi il cervellone è completamente oggi Elon Musk è percepito come un ex nerd che si è completamente sdoganato ma lo stesso Bill Gates arriva da questa cultura bene portare fuori dalle proprie camerette dalle stanze e alla luce del sole parlare di gioco creare momenti aggregativi il più possibile abbiamo visto essere una soluzione molto interessante che ha nobilitato questa pratica e accumula tantissimo la tematica del divertimento la parte della ricerca che mi ha colpito maggiormente è questo spirito di ricerca del divertimento che è transgenerazionale anzi oggi assistiamo a giovani padri che possono essere un elemento di collegamento importante con i propri figli io con mio padre non ho mai potuto giocare ai videogiochi oggi però con i miei figli posso farlo e quindi sono un portatore sano delle passioni sane che io ho ereditato e che culturalmente possono essere una strada per allontanare dalle deviazioni patologiche che ci sono in tutti i settori quindi non demonizzerei mai questo settore ma anzi prenderei le best practice che possiamo recepire da elementi apparentemente collaterali questo weekend si è appena conclusa la Milano Games Week 130.000 persone sono venuti a provare a metterle mani sui videogiochi e vi assicuro che non c'è nulla di patologico in tutto quello che è successo anzi si celebrava la voglia di stare insieme la voglia di condividere una passione la parola corretta è passione ovviamente va orientata e va regolamentata grazie Laura D'Angeli abbiamo detto che mi piace questa immagine che ci ha restituito l'idea del gioco come coinvolgimento come strumento magari anche di collante familiare sociale diciamo fra gruppi soprattutto in un momento storico in cui c'è un po' di individualismo forse anche tra più giovani come lo percepisce come lo percepiscono anzi le persone il gioco allora io conosco perfettamente anche l'altro mondo perché mi occupo anche mi sono occupata anche di e-sport mi occupo anche di e-sport quindi ho conosciuto molto bene questa realtà e devo dire che non ci sono grandissime differenze soprattutto tra i giovani perché questo che noi vediamo come una categoria mentale di distinzione c'è denaro o non c'è denaro è molto diversa nei giovani che sono già abituati a spendere per esempio online per acquistare Spotify per acquistare cioè prodotti che siano essi musica prodotti in streaming in generale quindi sicuramente possiamo parlare di un'evoluzione della domanda e dobbiamo fare i conti con questo prendendone gli aspetti più rilevanti anche per diciamo condizionare nel senso buono poi diciamo l'offerta dall'analisi e riprendo un po' i dati sempre interessanti dell'analisi emerge che appunto soltanto l'8% in realtà è un giocatore esclusivo quindi significa che ritornando alle misure anche di prevenzione che le misure di prevenzione devono essere previste per tutti i giochi quindi se i giocatori giocano su tutto quasi tutto quindi è chiaro che non va bene una misura che sia valida per non solo gioco ma essere valida per tutti i giochi e un altro dato sempre che è venuto fuori che è emerso dall'indagine e che c'è la tecnologia anche altri relatori l'hanno citata più volte ecco noi non possiamo dimenticarci che viviamo in un periodo in cui c'è un'accelerazione tecnologica estremamente importante che è anche un elemento di dialogo tra generazioni perché poi appunto i figli in realtà rappresentano degli istruttori per i padri o per le madri o per le nonne quindi in realtà è anche un elemento e un legame e quindi partire dalla tecnologia anche per sviluppare nuovi strumenti di prevenzione ma non basati secondo me sul prodotto ma bensì sulla maggiore consapevolezza anche la ricerca ci appunto restituisce in realtà un elemento che è il nudging cioè la possibilità di condizionare il comportamento delle persone attraverso delle azioni è possibile perché c'è un sentiment c'è una percezione di quello che può essere il gioco quindi utilizziamo anche le nuove tecnologie nuovi strumenti soprattutto personali quindi che aiutino le persone ad acquisire consapevolezza esistono ad oggi tante applicazioni che aiutano appunto a gestire meglio dallo sport dal fitness al tempo libero ecco magari ragionare con un pensiero trasversale rispetto a quelle che sono attualmente le misure di prevenzione che sono sempre poi sul tavolo diciamo istituzionale benissimo grazie tornando proprio alla ricerca vorrei dare la parola alla professoressa Mascolo perché ho una domanda sincera quello che si evince dalla ricerca è che un po' in realtà il gioco il gioco pubblico è pari ad altre attività altri tipi di intrattenimento diciamo perché però c'è ancora la percezione insomma che questa cosa sia un po' nascosta perché non si sa perché non lo diciamo allora guardi da accademica utilizzerò una citazione accademica se mi è concesso allora guardi mi piace ricordare Daniel Kahneman fondatore dell'economia comportamentale tra l'altro venuto a mancare proprio nel marzo di quest'anno il quale ha ricevuto un premio Nobel nel 2002 per un motivo tra l'altro lui psicologo psicologo israeliano riceveva un premio Nobel per aver introdotto in ambito economico l'aspetto psicologico soprattutto in tema di scelte in condizioni di incertezza e il gioco è per l'appunto una condizione di aleatorietà e una condizione di incertezza e nei suoi studi Kahneman introduce anche un altro aspetto l'aspetto dell'importanza del frame del framing ossia dell'incorniciamento così come un problema una questione viene incorniciata alla stessa strega viene percepita in un modo piuttosto che un'altra e allora se il gioco viene incorniciato per motivi sociali per motivi culturali per motivi storici come un qualcosa di proibito in un qualche modo è chiaro che viene attenzionato in un modo negativo piuttosto che in accezione positiva ma questo cambio di passo finalmente c'è stato anche negli studi accademici dove per lungo tempo l'uomo è stato inquadrato come necessariamente un uomo economicus un uomo razionale invece finalmente anche nelle scienze economiche l'uomo viene trattato come un uomo che ha emozioni un uomo che ha sensazioni un uomo che vuole divertirsi e quindi ecco che il gioco entra finalmente nelle abitudini di vita del cittadino è emerso nella ricerca come c'è una costanza quindi è una componente effettivamente di una necessità di un bisogno degli uomini e tra le altre cose se si studia in maniera diacronica l'aspetto ludico dell'attività umana possiamo riscontrare come il gioco è da sempre presente nella vita degli uomini in Mesopotamia c'era già in Cina c'erano le corse dei cani nell'Egitto era il gioco dei dadi quindi è un qualcosa che fa parte della vita del cittadino da cui si trae eccitazione si viene stimolati certo ci può anche essere frustrazione di fatti come quando si perde una partita a calcetto come si perde una partita a calcetto ma è un qualcosa che regala un quid in più un'emozione d'altra parte collegandomi con l'intervento del dottor Budelli questo aspetto della gamification rientra ormai a tutto tono negli studi aziendali ma nello specifico nell'area HR delle human resource perché ad oggi abbiamo un problema demografico il quale si percuote nel mercato del lavoro e quindi si stanno studiando misure di attraction e retention all'interno delle aziende e una delle strategie più utilizzate è proprio quella della gamification ossia vengono utilizzati punti gare premi per mantenere il lavoratore all'interno dell'azienda per renderlo più produttivo e per ingaggiarlo maggiormente all'interno dell'azienda stessa benissimo grazie lascerei a questo punto la parola a Niccolo Ruberti questa idea di gioco come strumento di divertimento per tutte le età come strumento di collegamento anche intergenerazionale come strumento forse che consente anche all'uomo di divertirsi con qualcosa che tutto sommato non fa male abbiamo detto infatti che ci sono degli eccessi come ci possono essere in tante altre attività che conosciamo riusciamo a trasmetterlo è difficile però intanto volevo fare i complimenti per il panel che SVG ha trovato di giocatori perché la differenza con la ricerca dell'Istisan fa vedere che sono dei veri giocatori e quindi i dati che riportano sono assolutamente credibili e mi spingerei più avanti nel senso già questi che sono giocatori quindi hanno un'abitudine al giocare parlano di divertimento ma se ampliamo un pochettino la visione a tutto il parterre dei giocatori che più o meno ricerche dicono sono sui 20-22 purtroppo i dati non sono facilissimi da ottenere il 76.5 dei giocatori spendono meno di 20 euro al mese meno di 100 euro lo spendono ulteriori 15% cioè parliamo di giocatori che nell'arco del mese spendono meno di 100 euro quindi lo fanno principalmente per divertimento come forma di intrattenimento sostitutiva di altre quindi il nostro settore è un settore dove le persone cercano ricercano una forma di intrattenimento dopodiché può essere fisico può essere sul canale online in stragrande maggioranza sul canale online ma l'obiettivo non è la vincita l'obiettivo non è la ricerca della grossa vincita soprattutto ma è il che possiamo definirlo brivido che è un po' quello alla fine che si vince dalla ricerca che è quello esattamente allora si gioca per divertirsi soprattutto il numero di giocatori problematici è ancora più basso di quel 9% cioè quelli che realmente possono essere definiti come patologici si stima il cnr stima che sono intorno al 2-2-4% cosa vuol dire che purtroppo il nostro settore sconta una terribile pubblicità che fa sì che sembra che tutto sia un po' grigio o scuro in cui tutti i giocatori siano ricerchino il gioco per un movimento interno una pulsione quando in realtà non è così la strada di punire il gioco allontanandolo da quelle che sono poi i centri dove si vive dando un'ulteriore visione di oscurità quando invece bisognerebbe riprovare a dare una giusta chiave di lettura siamo un settore che offre una forma di intrattenimento per la maggior parte dei giocatori che è principalmente possiamo definire sana leggera non votata alla alla patologia poi come in tutti i settori come in tutti i settori purtroppo c'è chi ne abusa ma non è una peculiarità del nostro settore ed è questo che probabilmente non passa sembra che stiamo parlando di un settore di persone con problemi quando in realtà punto secondo il CNR il 91% spende cifre che senza fare i conti in tasca a nessuno ma sono tutto sommato sostenibili per la maggior parte delle persone vedendo insomma questo ultimo intervento mi viene da pensare che se facessimo tutte queste se facessimo queste stesse ricerche per altre attività sportive ludiche non lo so la ristorazione il sabato sera probabilmente verrebbero fuori gli stessi numeri probabilmente anche un po' più alti insomma a questo punto manterei qui il panel perché abbiamo con noi l'onorevole Ettore Rosato che ringraziamo per essere qui a questo punto la inviterei a parlare dal podio vice segretario di azione e già vice presidente della camera dei deputati grazie per essere con noi sappiamo che ci ha raggiunto in corsa che era impegnatissimo scusa per il ritardo ma c'era una cosa che si sovrapponevano no diciamo che dietro il ritardo c'è insomma qualcuno che fa e quindi questo è una buona scusa onestamente gliel'ho fornita su un piatto d'argento la puntualità la puntualità è sempre preziosa ma mi è stato impossibile allora onorevole abbiamo parlato prima con l'onorevole De Bertoldi di quanto diciamo della parte anche regolatoria ma quanto sarebbe importante avere un'uniformità legislativa e regolatoria di questo comparto io proverei a chiederlo a qualsiasi società che ha la sede in quattro regioni o in 24 comuni credo che ne risparmierebbe molto non riuscirebbe a rispondere in risorse umane in organizzazione io poi penso che questo settore sia un settore sentivo il senso degli interventi poi non è la prima volta che ci confrontiamo su questi temi che sconta un'opinione una facile demagogia a parlarne contro purtroppo ha tutti i suoi difetti perché quando parliamo del 91% che spende correttamente o una cifra c'è un 9% che a me preoccupa e preoccupa tutti noi immagino perché poi come in tutto come nel vino o come nelle altre cose bisogna sempre preoccuparsi di chi utilizza in maniera distorta o fa uso in maniera distorta di qualsiasi cosa compreso anche del gioco d'azzardo e la ludopatia non è un un fatto inventato ma non si risolve demonizzando il gioco ma organizzando e pianificando le cose in una maniera migliore perché il concetto è sempre dove non c'è il gioco legale c'è quello illegale non è che non c'è gioco allora il nostro dovere il dovere dello Stato il dovere delle istituzioni è quello di consentire che il gioco legale sia l'unico gioco esistente nelle regolamentazioni una cosa che non ha nessun senso è diversificare da comune a comune non ha veramente nessun senso non c'è nessuna logica perché se uno mi spiega che ha una logica mi ci adatto ma non avendo nessuna logica cos'è il sindaco più o meno sensibile qual è l'altro pezzo di regolamentazione statale che facciamo su questa base le strisce pedonali quindi abbiamo bisogno di una regolamentazione che sia unitaria per una questione di logica per una questione che c'è come è evidente è una concessione nazionale questa e dove c'è una concessione nazionale le regole per la concessione nazionale dovrebbero essere inserite in maniera automatica all'interno della concessione bisogna che quando c'è un bando di gara che assegna una licenza sul gioco le regole dovrebbero essere uniformi da Caltanissetta a Bolzano senza nessuna eccezione e quindi io penso che su questo la politica deve assumersi una responsabilità come sempre le responsabilità quando parlano alla pancia degli italiani ognuno cerca di scansarle perché parla alla pancia i sindaci l'autonomia ma non è il sindaco il sindaco lo esercita controvoglia questo potere se tu glielo dai lo deve esercitare se tu non glielo dai gli dici che la regolamentazione è questa il sindaco è contento se tu invece gli dici sai puoi fare c'è i comitati e le cose che gli impongono anche nel dibattito che si genera quindi una regolamentazione omogenea sul territorio nazionale io sono convinto che serve un favore agli enti locali non un dispiacere analogamente naturalmente il tema delle regioni su cui poi c'è la fantasia che si aggiunge a questo ci sono delle cose che possono fare le regioni e gli enti locali su questo ma assolutamente sì ci sono tante cose ma non la regolamentazione ci può essere l'attività di informazione l'attività le regioni che gestiscono la sanità e la ludopatia è una malattia devono utilizzare le risorse pubbliche per affrontare questi temi quindi ci sono competenze da esercitare l'unica competenza da non esercitare è quella di regolamentare una concessione statale comune per comune in maniera diversa perché non ha nessuna logica quindi io penso che su questo bisogna fare una non una battaglia culturale bisogna semplicemente fare un ragionamento logico che il ministero nella fase anche di emanazione dei bandi delle concessioni potrebbe agilmente agilmente tra virgolette perché se non è stato fatto mai adesso da destra a sinistra quindi agilmente no ma però potrebbe logicamente potrebbe fare in maniera puntuale magari già mettersi intorno al tavolo però diciamo che quando ci si mette intorno a un tavolo generalmente è per non produrre perché è talmente semplice la cosa che certo bisogna fare delle bisogna trovarsi però capisco lo spunto se tu metti gli esperti che esperto ti viene a dire che tra Treviso e Vittorio Veneto ci vogliono due regolamentazioni diverse sulla localizzazione sugli orari di un qualsiasi tipo di locale di intrattenimento nelle regole generali dopo ci possono essere le eccezioni nelle regole generali ci stanno le eccezioni che sono i comuni turistici esistono già le eccezioni nei comuni turistici si applica una determinata normativa nelle regole generali ci possono essere anche le distanze da un particolare luogo sono ammesse anche queste ma deve essere una regolamentazione nazionale quindi io penso che su questo ci vorrebbe veramente uno sforzo da parte delle istituzioni da parte naturalmente delle istituzioni nazionali arrivare a una regolamentazione che sia unica che poi gli esperti cioè anche chi qui oggi possa dare un input su questo e lo dia con forza questo naturalmente aiuta e sono convinto guardate che al di là delle cose che si pensino che su questo trovereste i sindaci più alleati che avversari perché se tu hai una regola generale il sindaco sta tranquillo guardate cosa succede per i limiti di velocità nei centri i limiti di velocità devono essere dei limiti di velocità non è che ognuno si può inventare il suo e penso che così ci devono essere anche questo tipo di attività non richiedono delle declinazioni particolari per ogni comune anche comuni che stanno nella stessa conurbazione e che il confine neanche si sa dov'è va benissimo la ringrazio grazie a tutti spero di vedere tutti voi anche nella prossima edizione e adesso per chi volesse continuare avesse piacere di continuare ci spostiamo di là grazie grazie a tutti voi grazie grazie a tutti grazie a tutti